valli che vengono in pista grande Udini-Dor sfrutta la sveltezza e va al comando con allargo Usingo che punterà in avanti problemi per il numero 1 insiste Usingo e si va al completamento dei 200 è tornato a piovere poi Usingo ha problemi 14 e mezzo a partire e così si ritrova al comando Vincenzo Luongo con Usingo secondo è San Susi Flont con Claudio De Filippo 29 e mezzo il 4 a tabellone Usingo lunga fila indiana ma molto sfilacciata poiché il leader fa buona andatura e va a completare i 600 iniziali nell'ordine del 44 e 9 siamo al completamento anche di questa piegata i cavalli che si presentano davanti alle tribune completamento del mezzo miglio iniziale mezzo miglio che se ne va in un minuto e abbondante è in terza posizione tranquilla e ti ama Petui gli altri sono più staccati capeggiati da Torcello Lewis primo chilometro passato in 15 e 4 da parte di Udini i cavalli affrontano la penultima curva è chiaro che non ci sono variazioni sostanziali l'andatura è brillante veloce mezzo miglio alla conclusione tranquilla questa piegata è 15 e 8 e ti amo ricuce il gap e prende contatto con San Susi i cavalli affrontano il penultimo rettilineo la frazione se ne va in 15 e 1 fa una mezza ruota ti amo Petit i cavalli che affrontano ora la curva finale poi c'è Tessitore Jet completamente dal miglio due minuti e qualche virgola e Udini Dori in vantaggio mezza ruota di San Susi per anticipare ti amo che è stata stappata retta d'arrivo viene via la grande San Susi Font servita a dovere passa Claudio De Filippo interviene ti amo Petit ma non c'è più tempo signori San Susi chiude il pomeriggio Udini ancora secondo e terzo una ti amo Petit che ci attendavamo qualche cosa di più 1.15.6 per il vincitore bella vittoria di San Susi che dava 20 metri da tarare verrà fuori un 14.8 un 14.9 andiamo a leggere il totalizzatore 5.85 per l'ottimo San Susi Font che ha vinto con San Susi sans problem signori anche se è targato Font buonasera a tutti alla regia di Roma che ci ha fatto compagnia per tutto il pomeriggio e con Emilio con le sue sempre indovinati azzeccate interviste e consigli per gli acquisti buonasera a tutti buonasera a tutti grazie a tutti